Ciao a tutti ragazzi, sono AnthonyRock2000, e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi vi vorrei raccontare delle barzellette molto divertenti secondo me. Allora cominciamo subito. Pierino e suo appadre, stanno al parco quando videro una prostituta vicino al marciapiede. Allora Pierino disse al padre, papà. Chi è quella ragazza? Il papà un po' imbarazzato rispose, è una donna che vende felicità. Pierino il giorno dopo andò di nuovo all'apparco da solo e si diresse verso la prostituta. Allora il bimbo gli chiese, voglio comprare la felicità. Allora la prostituta lo invitò a casa sua e gli fece tre fette di biscottate con la nutella. Al ritorno il padre disse al bambino, tesoro, dove sei stato? Dalla ragazza che vende la felicità. Ah, e che hai fatto? Niente, le prime due, le ho mangiate e l'altra l'ho solo leccata. Ah, e volete sapere cosa ci fa un gondoliere davanti alla televisione? Cambia canale. Ah, ciao ragazzi, alla prossima. Se volete altre barzellette raccontate colloquendo, basta che mi avvisate tramite commento sotto al video. Ciao ragazzi.